Oggi in redazione è giunta una notizia che ha scosso tutti noi. Un audio shock riguardante la premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Gianbruno è stato reso pubblico. Ma prima di entrare nei dettagli, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale, mettere mi piace e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Mediaset ha appena annunciato che Andrea Gianbruno non comparirà più in tv a seguito delle sue frasi sessiste. In un comunicato ufficiale, l'azienda ha dichiarato che il giornalista manterrà le sue responsabilità nel coordinamento redazionale ma non sarà più di fronte alla telecamera. Nel frattempo, è emersa un'intervista del 2018 in cui la premier Giorgia Meloni commentava l'atteggiamento degli uomini incapaci, facendo un riferimento a Gianbruno. Mediaset sembra aver preso una ferma posizione contro dichiarazioni sessiste, dimostrando di non tollerare comportamenti inappropriati nel suo palinsesto televisivo. Antonio Ricci, il creatore di, striscia la notizia, ha confermato che il programma continuerà a seguire da vicino questa vicenda nonostante la decisione di Mediaset. Andrea Gianbruno si trova anche sotto inchiesta da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti, a seguito delle segnalazioni del Consiglio della Lombardia e della Commissione Pari Opportunità della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a seguirci per restare sempre informato sulle ultime novità.